All'indomani, dallo scontro tra il Monsignor Lorefice e Don Minutella alla Cattedrale di Palermo, oltre 2000 fedeli si sono riuniti per pregare a favore di un'unità della Chiesa. Nei giorni scorsi il caso Minutella aveva visto al centro delle discussioni di Chiese e Fedeli i durissimi attacchi contro la Chiesa di Papa Francesco, definita da Don Minutella, falsa e prostituta. Le accuse del parroco hanno causato uno scontro senza precedenti, che ha portato Corrado Lorefice a chiedere al sacerdote di lasciare entro 15 giorni la sua parrocchia di San Giovanni Bosco, una decisione che ha attirato sul vescovo violenti critiche da parte del dissidente e dei suoi fedelissimi. All'origine della decisione sembrano esserci contrasti sulla pastorale del sacerdote e soprattutto le sue affermazioni, anche rilanciate sui social network, di essere in contatto con la Madonna e il prete, richiamato al silenzio e all'obbedienza dal vescovo, il quale lo ha invitato a prendersi un periodo di riposo e a lasciare la parrocchia, aveva risposto con un messaggio show nella sua Chiesa ripresa in diretta su Facebook. Durissime le parole del sacerdote pronunciate dall'altare durante l'omelia della messa nella quale Don Minutella ha informato i suoi parrocchiani della decisione del vescovo. La vera Chiesa vive il martirio, chi non obbedisce viene imbavaiato e buttato fuori. E' stato lo stesso Don Minutella ad annunciare le possibili conseguenze che il suo gesto avrebbe avuto. Sarò sospeso a Divinis e ridotta allo stato laicale, ha dichiarato. Vedo già questi provvedimenti scritti, ma non temo le loro sanzioni, per me sono un onore.